Se stai cercando qualità e professionalità, la SV Record va al caso tuo. Con gli arrangiamenti del maestro Silvio Visconti, si effettuano mix e mastering in sede, registrazioni cover, provini discografici e ancora autori, videomaker, grafici, insomma, tutto ciò che occorre per la tua carriera artistica. La SV Record è a Qualiano di Napoli, per contatti 346-603-3350 oppure sulla pagina Facebook SV Record. Scegli il meglio per il tuo lavoro discografico, scegli la SV Record di Silvio Visconti. Grazie. 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 Grazie a tutti.